Freddo, gelo e primi fiocchi nelle Marche. Come anticipato nei giorni scorsi, le temperature sono scese sotto lo zero termico ed è arrivata la neve sul litorale, ma senza creare particolari disagi alla circolazione. I mezzi spargistali della provincia si sono messi in azione fin dalla giornata di sabato per prevenire anche la formazione del ghiaccio, che rimane il vero problema di queste giornate. Insieme alle ditte private sono intervenuti numerose arterie del territorio provinciale, come sulla Monte Labattese, lungo la Flaminia e in Val Cesano. Interventi sono stati fatti sia nelle zone collinari interne che a Fondovalle. Domenica però anche i più scettici che hanno commentato i nostri post sul sito e sui social si sono dovuti ricredere dopo aver visto la prima coltre bianca della stagione invernale. In tanti poi hanno inviato alla nostra redazione scatti fotografici e video come questi girati in tutto il territorio. Una nevicata a tratti intensa cessata a lungo il litorale da Pesaro a Trebbia Antico, Candelare e Novilare da Lucrezio a Marotta. Le zone interne invece sono state risparmiate, come Fossombrone, Cagli e Orbino. Nonostante il maltempo, a Fano si è svolta comunque la benedizione degli animali in piazza 20 Settembre in occasione della ricorrenza di Sant'Antonio Abate. Durante l'iniziativa sono scesi grandi fiocchi di neve fino alla benedizione impartita da padre Silvano Bracci. La stessa ricorrenza è stata celebrata anche nelle parrocchie di Tavernelle, Serrungarina e Accarignano, dove all'ore 9 il Vescovo Trasarti ha celebrato una santa messa la quale è seguita la tradizionale processione e la benedizione degli animali. Oggi è tornato il sole, ma le basse temperature hanno provocato gelate nelle prime ore del mattino, col diretti temi che possano danneggiare le coltivazioni di verdure invernali, oltre a pregiudicare le piante da frutto, visto che il caldo anomalo della scorsa settimana aveva fatto gonfiare le gemme come in prefioritura. Nel frattempo, gli operai hanno lavorato anche in mattinata per ripulire le strade dal ghiaccio, che ha provocato diversi incidenti stradali, ma per fortuna senza gravi conseguenze. Secondo gli esperti di Geometeo.it, proseguirà per tutta la settimana una circolazione di aria fredda, con poche precipitazioni e qualche debole nevicata fino a bassa quota, tra mercoledì e giovedì, in particolare nelle aree interne appenniniche. Saranno possibili inoltre diffuse gelate con temperature minime al di sotto dello zero.